Buongiorno, sono Tommaso Furanello, sono un medico veterinario e sono responsabile sanitario dell'associazione Pet Project. Vorrei condividere con voi alcune riflessioni relative alla protezione dei nostri cani nei confronti di pulci, zecche e altri parassiti e vi presenterò brevemente i protocolli che noi utilizziamo per i cani che partecipano alle attività di pet therapy nell'ambito appunto dell'associazione Pet Project. Come introduzione potremmo pensare che esistono due modalità per proteggere i nostri animali e soprattutto per pianificare questa protezione? Esiste una modalità che è quella che noi utilizziamo di creare una griglia di protezione utilizzando i prodotti disponibili, cercare di coprire tutte le principali problematiche e metterle in opera in tutti i soggetti. Esiste un'opzione alternativa altrettanto valida che consiste nel ragionare prima sulle necessità e sui rischi a cui è esposto un cane, quindi sono legati alla sua età, al suo stile di vita, all'area geografica di provenienza e partendo dai rischi a cui può essere esposto creare poi una lista di prodotti che vadano a coprire le sue necessità. Per selezionare la modalità di intervento è il medico veterinario sicuramente la figura professionale che vi può aiutare in questa scelta. È chiaro che se stiamo parlando di cani che partecipano all'attività di pet therapy noi dobbiamo lavorare a livello massimo di protezione perché alcune delle malattie di cui parlerò molto molto brevemente nelle prossime diapositive sono malattie che sono anche trasmissibili dal cane all'uomo e i fruitori possono anche essere fragili dal punto di vista immunitario. Quindi il nostro protocollo, quello che utilizziamo da molti anni, sempre adattandolo a quello che diciamo la farmacopea italiana ci offre, ecco che dovrà essere, come dicevo prima, sempre il più efficace possibile. Quindi sono protocolli che comunque rispecchiano anche i consigli che io do nella mia pratica quotidiana, quindi si possono adattare anche al vostro cane, sempre nell'ottica di una interazione efficace con il vostro medico che è l'unica figura professionale che vi può aiutare. Vi esorto a non utilizzare il fai da te nella scelta dei prodotti, nell'abbinamento tra i differenti prodotti perché avete dei professionisti a vostra disposizione che hanno tutte le competenze per aiutarvi. Sicuramente esistono anche poi delle situazioni particolari, quindi cani che hanno stati di malattia o altre peculiarità, la razza d'appartenenza ad esempio. Quindi ancora una volta rivolgetevi al vostro medico per selezionare la modalità migliore di protezione. Fortunatamente in questi anni abbiamo avuto a disposizione sempre nuovi prodotti, sempre nuovi farmaci e quindi le possibilità, le opzioni che abbiamo a disposizione stanno aumentando e quindi possiamo utilizzare dei prodotti spot on, quindi le famose gocce da mettere fra le scapole. Possiamo utilizzare anche dei collari antiparassitari. Attenzione mi riferisco a prodotti che contengano per metrine, quindi con una concreta e reale attività repellente e antiparassitaria, quindi non consiglio prodotti a base di, aperte virgolette, sostanze naturali, oli essenziali o altro perché non rientrano nei protocolli reali di profilassi. Abbiamo come grande novità delle compresse ad attività antiparassitaria contro pulci e zecche che hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo della parassitologia, nelle modalità di prevenzione delle malattie. Abbiamo da tanti anni delle compresse ad attività antiparassitaria nei confronti della filariosi cardiopolmonare e abbiamo adesso a disposizione anche da alcuni anni una iniezione che si esegue una volta all'anno per prevenire la filariosi. Andiamo adesso a vedere le principali malattie e alcuni suggerimenti su come contrastarli e poi metteremo tutte insieme queste indicazioni. Per quanto riguarda le pulci, partiamo da questa, non posso mostrarvi una figura al microscopio delle pulci, è più interessante mostrarvi le feci delle pulci che sono queste piccole segmenti nerastri a forma a volte di virgola che potete trovare su un panno bianco o un altro tessuto chiaro e rappresentano l'effetto della digestione di quello che hanno mangiato le pulci, cioè il sangue dei vostri cani. Come possiamo combatterli? Per fortuna abbiamo a disposizione delle armi molto efficaci, cioè dei collari, dei prodotti spot on e delle compresse. Il suggerimento in linea generale è di abbinare le compresse al collare oppure le compresse allo spot on, perché agiscono in modo completamente differente e nel linguaggio medico le chiamiamo adattività sinergica, cioè agiscono insieme per ottenere lo stesso risultato, cioè contrastare la presenza delle pulci. Le zecche sono un grandissimo problema e adesso il clima le favorirà fino al prossimo inverno, ma in realtà sono attive tutto l'anno. Le zecche, queste sono due immagini prese durante la mia attività giornaliera veterinaria, vi esorto a non toglierle con le mani, a non mettere gocce d'olio o fare altre procedure, esistono dei banalissimi dispositivi di plastica che tutti voi dovreste avere a disposizione e con questi si può togliere in modo molto rapido e efficace le zecche. Le zecche come andiamo a combattere? Le andremo a combattere con le stesse modalità che abbiamo visto per le pulci, compresse e spot on, compresse e collari, questo è il suggerimento che vi do. La leishmaniosi è un argomento molto complesso, noi non stiamo lavorando sulla leishmaniosi, stiamo lavorando per contrastare i flebotomi che trasmettono questo protozoa. Per contrastare questi flebotomi dobbiamo utilizzare delle permetrine, quindi degli antiparassitari che sono disponibili negli spot on o che sono disponibili nei collari. Esiste anche la possibilità che va aggiunta al collare e lo spot on, quindi non in sostituzione ma in aggiunta, esiste la possibilità di utilizzare un vaccino. Vi suggerisco a questo livello sicuramente di parlare con il vostro medico e sentire se il vostro cane è idoneo per essere vaccinato, oppure forse lo sarete già facendo, però non può essere un'alternativa ma è una integrazione. La filerosi cardiopolmonare la conosciamo da tanti anni e l'utilizzo di prodotti con regolarità permette di proteggere il vostro cane in maniera eccellente. È vero che era una patologia molto diffusa in nord Italia, però adesso si sta diffondendo anche nel centro sud, quindi suggerisco anche ai cani che vivono in queste aree dell'Italia di essere protetti, che vengano protetti con questi prodotti. La filariosi la possiamo contrastare con l'iniezione annuale, la possiamo contrastare con le compresse o possiamo contrastarla con alcuni spot on. L'angiostrongilosi è un po' una novità, l'angiostrongilosi è un parassita polmonare molto pericoloso, diffusa in tutta Italia, seppur in modo molto irregolare e questo parassita può creare dei danni gravi senza che ce ne si possa accorgere fino a che la malattia non arriva dai livelli molto avanzati, quindi il cane è molto ammalato. Quindi reputo importante proteggere il vostro cane, esistono dei prodotti spot on e esistono delle compresse al riguardo. Ancora una volta suggerisco di parlarne con il vostro medico e informarvi se l'area geografica in cui vivete è a rischio o meno. I parassiti intestinali sono molti, non abbiamo a disposizione un farmaco che li elimini tutti, abbiamo la possibilità con alcuni prodotti spot on, alcuni con le compresse, di trattare questi parassiti, eliminarne buona parte, contrastarne il loro sviluppo, però come ho anticipato non esiste la possibilità di eliminarli tutti e di conseguenza comunque il vostro cane dovrebbe essere controllato tramite un esame delle feci che il vostro medico veterinario potrà realizzare e suggerisco di farlo un paio di volte all'anno, anche se è stato usato prodotti mensilmente che agiscono contro questi parassiti. Adesso faremo due esempi di due possibilità di associazioni tra i prodotti che avete visto prima, che non c'è un singolo prodotto che sia sufficiente in questo momento a coprire per tutte le problematiche, quindi noi potremmo abbinare delle gocce da mettere fra le scapole e quindi qua potremmo con alcuni prodotti contrastare la filariosi, l'angiostrongilosi, pulci, zecche e anche alcuni parassiti intestinali, però ci manca la leishmania, quindi dobbiamo utilizzare un collare antiparassitario contro pulci e zecche. Esiste anche la possibilità e la consiglio di utilizzare anche la compressa contro pulci e zecche. L'esempio numero due, che reputo molto efficiente come anche il precedente, è di utilizzare un collare antiparassitario. I collare antiparassitari con le permetrine in linea di massima proteggono da pulci, zecche e i flebotomi, però dobbiamo abbinare un prodotto che agisca anche contro la filariosi cardiopolmonare, abbiamo parlato di parassiti, abbiamo parlato di angiostrongilos, quindi esistono delle compresse che agiscono a questo livello e che anche agiscono contro pulci e zecche. Quindi in conclusione tutti i nostri cani, e suggerisco anche i vostri, angiostrongilosi, dovrebbero essere protetti contro pulci e zecche, dovrebbero essere protetti contro i flebotomi della leishmaniosi, dovrebbero essere protetti contro i parassiti intestinali e contro i parassiti respiratori che abbiamo nominato prima. La filariosi sicuramente la conoscete, ma vi suggerisco di interagire con il vostro medico e chiedere se nella vostra area geografica è presente anche la angiostrongilosi, che è molto molto pericolosa. Spero che questo video sia stato interessante e vi saluto con cordialità.